bene buon pomeriggio e buon anno se siamo ancora nel periodo giusto per dirlo allora oggi cerchiamo di stare qui un'oretta poi voi se volete rimanere l'aula è libera fino alle prenotata per il corso quindi in realtà è libera fino alle 7 e diciamo due parole sull'esame in generale e sul sul tema d'esame del primo appello in particolare che quello che probabilmente molti di voi se non tutti avranno già letto alcune volte allora lavoriamo direttamente sul documento e qui possiamo diventare può diventare versione finale ormai allora in generale come funzionerà l'esame è scritto qui ma proviamo a ripeterlo dovrete realizzare un progetto di applicazione web utilizzando quello che abbiamo visto durante il corso quindi in aula agli esercizi e laboratori un pacchetto unico realizzarlo individualmente consegnarlo tramite il portale della didattica entro una certa scadenza e il giorno dell'esame o il giorno dell'esame che compare sul portale o da quel giorno fine giorni successivi finché non riusciamo a finire tutto e ci sarà poi una una dimostrazione e una discussione sul progetto che consegnerete quindi noi scaricheremo il progetto su sul computer lo eseguiremo con voi li presenti all'orale e insieme verificheremo che funzioni che faccia tutto quello che deve fare come deve farlo e nel frattempo ci saranno alcune domande per verificare che l'abbiate fatto voi anche quindi non solo che sia fatto e sia fatto bene ma anche che l'abbiate fatto voi davvero per cui siate in grado di rispondere eventuali domande sul progetto e le domande saranno solo relative al progetto non saranno relative ad altre cose e questo ci porterà via 20 minuti mezz'oretta a testa perché ovviamente si tratta di eseguire tutto lanciarlo e provare tutte le varie funzionalità di ogni progetto eccetera e dopo quei 20 minuti mezz'oretta chi è passato all'orale può andare a fare altro possibilmente di meglio rispetto a questo esame e noi invece continueremo con quello dopo e in base a quanta gente sarà presente a stare iscritta all'appello questo può essere il giorno dell'esame o può essere il giorno dell'esame e i cinque successivi dipende in quanti siete iscritti e quanti consegnate all'appello e in generale cercheremo di essere tutti e tre i docenti in modo da andare in parallelo ma ognuno valuterà una alla volta il progetto lo testeremo sul computer vedremo cosa va cosa non va e faremo delle domande 20 30 minuti a testa e la discussione come scritto qui riguarderà le scelte di progettazione e le specifiche l'aderenza alle specifiche che che sono state rilasciate questi per tutti gli appelli d'esame non solo per il primo dopodiché per ogni appello d'esame ci sarà un testo simile a questo dove ci saranno dei requisiti logistici tecnici e funzionali quelli logistici sono requisiti di buon senso diciamo così cioè il progetto è individuale quindi non va fatto in gruppo perché individuale e la consegna è fatta in un certo momento deve essere la consegna completa non è che uno arriva il giorno dopo e dice mi sono dimenticato un pezzo mi spiace e di conseguenza non può consegnare il giorno dopo anche perché il giorno dopo è il giorno dell'esame quindi non avremo già scaricato tutti i progetti ce li saremo divisi quindi saremo pronti all'orale quindi ci sono delle scadenze e sono da rispettare i requisiti tecnici bisogna usare html bisogna usare css flask sqlite flask login eccetera eccetera le stesse tecnologie che abbiamo usato durante il corso niente di più potete scegliere qual è il target di dispositivi su cui il vostro progetto deve funzionare al meglio quindi potete dire è un'applicazione web per un computer desktop e allora noi la guardiamo sul computer desktop oppure potete dire è un'applicazione web per un telefonino e allora noi usiamo la modalità simulatore del browser per farla apparire su uno smartphone sta a voi la scelta non è necessario che funzioni su tutti l'importante che funzioni o in una modalità o nell'altra o nell'altra ancora scegliete voi quella che preferite che vi piace di più e i form vanno validati si devono essere validati sia nel front end che nel back end come abbiamo detto anche innumerevoli volte su sul gruppo telegram ecco in questo documento le cose in rosso sono le cose che sono state aggiunte a seguito dei vostri commenti delle vostre domande commenti che rimangono visibili qui io ho riaperto tutti i commenti che avete chiuso perché magari sono di interesse a qualcun altro e da oggi qualunque commento che appare in questo documento non verrà più risposto adesso potete scrivere solo sul gruppo telegram ma i commenti rimangono qui per chiarimento e il progetto deve funzionare su chrome o firefox il codice deve essere leggibile e eccetera ci sono requisiti stilistici quindi con l'utilizzo appropriato di html con l'utilizzo appropriato di css che quindi starà in un file a parte perché il file html contiene la struttura e non lo stile stessa cosa per javascript e deve essere diciamo così usabile tra virgolette un pochino seguendo quello che abbiamo visto durante quell'ora e mezza di visual design ma soprattutto pensate che lo userà una persona che non siete voi e quindi se per riuscire a fare il login uno deve aprire otto menu e cliccare sette volte in posti diversi per riuscire a fare il login magari per voi è intuitivo così ma non probabilmente per chi lo prova e quindi questo non è e questo è una nota in un requisito stilistico quindi non è un cataclisma sicuramente però sicuramente fa meno felice la persona che sta in quel momento valutando il vostro progetto e in teoria non è il vostro obiettivo rendere poco felice la persona che sta valutando il vostro progetto in generale e e questi sono requisiti stilistici logistici tecnici che rimarranno costanti per tutti gli appelli quindi questi non cambieranno e quello che cambierà sono la descrizione requisiti funzionali cioè cosa farà il l'applicazione web che per il primo appello sarà così per il secondo appello sarà qualcosa di totalmente diverso rispetto a questo allora l'applicazione per questo primo appello in questo documento c'è l'istruzione di consegna poi torniamo entro la mezzanotte del 22 gennaio quindi entro la fine giornata del 22 gennaio nella sezione consegni elaborati sulla pagina del corso sul portale fate uno zip un rar quello che vi pare e uno zip meglio caricatelo e dove ci deve essere il codice eventuali dipendenze note per installare quello che serve per farlo funzionare il database è un documento di testo che racconta quello che serve per provare l'applicazione quindi è un'applicazione per mobile è un'applicazione per desktop gli utenti per cui fare il login sono questi nome utente password le cose che servono per a un'altra persona che non siete voi per far funzionare il tutto che cosa fa questa applicazione prova a raccontarlo invece che che leggere quello che è scritto qui così vediamo se raccontate in un altro modo si si capisce ci sono dubbi l'applicazione è un'applicazione per gestire dei podcast delle serie di podcast che sono composte da degli episodi singoli allora quando si va sul sito sull'applicazione c'è la possibilità di fare il login o di registrarsi oppure si può navigare il sito liberamente quando si naviga il sito liberamente può navigare il sito quindi può vedere le serie di podcast può vedere gli episodi può navigare per le categorie dentro le quali le serie di podcast sono state categorizzate ma non ascoltare nessun podcast quindi può vedere può leggere ma non può fare play su niente non si può ascoltare sul podcast può navigarlo e può anche all'interno di una serie cercare quindi all'interno di una pagina che rappresenta la serie di podcast con i suoi episodi cercare qualcosa all'interno di quella pagina attraverso un apposito campo ricerca che va fatto e va fatto utilizzando javascript quindi nel back end quindi qui c'è un esempio per esempio un utente potrà cercare javascript tra i titoli le descrizioni degli episodi e la ricerca mostrerà solo gli episodi che contengono la parola javascript nel titolo o nella descrizione degli episodi di quella specifica serie di podcast non delle altre in front end la ricerca all'interno di una serie può cercare qualunque utente lo gato no un episodio con una ricerca testuale nei titoli descrizioni e implementato utilizzando esclusivamente javascript e la manipolazione del dom quindi senza tornare sul server è una ricerca in quella pagina con le informazioni che voi potrete mettere visibili o non visibili in quella pagina ok e questo è quello che può fare un utente non registrato un utente registrato può registrarsi con le sue informazioni e con un identificativo univoco che sta a scelta sì la ricerca scritta rispondo partendo da lontano la ricerca scritta qui è al all'interno di una serie. All'interno di una serie puoi cercare un episodio. Quindi siamo all'interno della singola serie, la serie X, e cerchiamo un episodio all'interno di quella serie. La ricerca globale su tutti gli episodi e su tutte le serie non è richiesta e se volete farla non verrà valutata, né in bene né in male, quindi mi fa piacere, come dire. Però questa è all'interno di una serie. Ok, a quel punto la persona può registrarsi o fare il login e può registrarsi o fare il login come un tipo di creatore o un tipo di utente o un altro tipo di utente. I tipi di utenti sono i creatori, che sono quelli che creano i podcast, e gli ascoltatori, che sono quelli che utilizzano il sito per ascoltare le varie cose. I creatori cosa possono fare? Possono ovviamente creare, modificare e cancellare un'intera serie di podcast e aggiungere, modificare e cancellare degli episodi a quelle loro, alle loro serie di podcast. A una loro serie di podcast. Quindi io ho le mie serie di podcast, posso aggiungere episodi alle mie serie di podcast, non alle sue, perché saranno sue. E posso creare, modificare e cancellare sia episodi che serie intere. Cosa posso, cosa mi serve per modificare e creare una serie di podcast? Mi serve un titolo di una serie, mi serve una breve descrizione della serie, mi serve una categoria, che può essere una categoria libera, può essere scelta da un menù tendina, come volete. Mi serve un'immagine che rappresenti la serie di podcast, mi serve il nome dell'autore, quindi il creatore che è loggato in quel momento. E una serie di podcast in una pagina avrà anche una lista degli episodi in essa contenuti. E alla creazione della serie, tutti i campi, tranne la lista, che ovviamente può non esserci, perché uno può creare una serie di podcast vuota, poi man mano aggiungo gli episodi, sono obbligatori. Quindi ci deve essere per forza un titolo, ci deve essere per forza una descrizione, la categoria, un'immagine, il nome dell'autore sarà l'utente loggato come creatore quando crea, ovviamente, e basta. La serie di podcast nella pagina, poi mostrerà tutte queste informazioni in aggiunta alla lista degli episodi e gli episodi in quella pagina in cui si mostra la serie di podcast saranno ordinati per data, non per ordine in alfabeti come per data. Sta a voi scegliere se tra il più recente al più vecchio, dal più vecchio al più recente, ma comunque per data. Gli episodi invece, quindi quando volete modificare qualcosa, modificate questi campi. Gli episodi sono rappresentati da un file audio, da un titolo e di nuovo da una descrizione testuale e dalla data, la data che vi serve per ordinare le serie di podcast di cui prima. Esatto. Si può creare la serie, gli episodi possono essere aggiunti in una fase dopo, potete scegliere di avere anche un campo per raggiungere l'episodio durante la creazione della serie, questo, non essendo quel campo obbligatorio, può anche non esserci. L'importante è che poi alla fine in una serie, in una pagina ci sia le informazioni sulla serie e gli episodi della serie, quando ci sono, può esserci anche una serie senza episodi, al momento senza episodi. Per la creazione, modifica eccetera degli episodi, tutti questi campi sono obbligatori, quindi non potete cancellare la descrizione di un episodio perché a quel punto ho la data, non può esserci una serie, un episodio senza data, ci deve essere per forza e la data ovviamente vi serve per ordinare gli episodi nella pagina. Ma per il data si chiede la data di caricamento del episodio oppure una... La data. Io posso caricarlo oggi ma dire che voglio usare la data di quando l'ho creato che magari è tre giorni fa. Ah, ok. Quindi io... Una data. Quindi io posso fare il default della data e quello che vuoi? Puoi fare quello che vuoi di default. L'importante è che ci sia una data, però non è obbligatorio che sia quella di caricamento. Poi uno può dire uso di default quella di caricamento e permetto di cambiarla, uso di default quella di oggi che è quella di caricamento, non ho un default, brutto non avere un default, però non posso assumere che sarà sicuramente quella di caricamento, posso permettere poi di modificarla se voglio usare quella di default, ok? E un episodio può appartenere a una sola serie. Quindi serie A, episodio A, quell'episodio A può solo appartenere alla serie A, non si può mettere l'episodio anche in un'altra serie. C'è una corrispondenza univoca tra una serie e un episodio. Un episodio appartiene a una serie. La serie contiene un certo numero di episodi che sono solo suoi. Non può un episodio apparire in altre serie. E ovviamente solo il creatore della serie può modificarlo. L'episodio, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, prima di poter agire dal creatore bisogna registrarsi e eseguire il login. E questi sono i creatori. Dopodiché ci sono gli ascoltatori, che sono sempre un tipo d'utente registrato, che possono ascoltare degli episodi, navigare sul sito e ascoltare gli episodi del podcast. A loro scelta. E hanno anche la possibilità di seguire o smettere di seguire uno o più serie di podcast. Quindi l'ascoltatore può premere play sui singoli episodi e ascoltare quelli che vuole, in un qualunque momento. E può anche seguire, come un follow sui social media, una serie di episodi. Non l'episodio singolo, la serie. Questi episodi che seguite saranno poi mostrati in una pagina profilo, che mostreranno le informazioni inserite in fase di registrazione e anche l'elenco delle serie seguite. Quindi quando io seguo una nuova serie, nella pagina profilo mi comparirà un nuovo elemento in questa tabella, in questa lista di serie seguite. Quando smetto di seguire una serie, sparirà dalla pagina la serie seguita, dall'elenco, da quello che sarà. Gli ascoltatori possono inoltre lasciare un commento testuale sotto ogni episodio. Non nella serie, ma nell'episodio. E il commento sarà visibile a tutti, ma modificabile e cancellabile solo dall'ascoltatore che l'ha scritto. Quindi, se io ho creato una serie con un episodio, lui scrive un commento, io non posso cancellarlo. Nessun altro può cancellarlo, solo lui può cancellarlo. Tutti gli altri possono leggerlo. Prima di poter agire l'ascoltatore, bisogna registrarsi e eseguire il login come per il creatore. Un creatore è anche un ascoltatore. Quindi tutto quello che può fare un ascoltatore, lo può fare anche un creatore. Un creatore può fare di più dell'ascoltatore, non è vero il viceversa. E non è necessario gestire un upgrade da ascoltatore a creatore. Quindi io mi registro come ascoltatore, sono l'ascoltatore per sempre. Io mi registro come creatore e sarò creatore per sempre. Non è richiesto. Non è richiesto gestire eventuali modifiche del profilo. Allora, per come è scritto qui nella pagina profilo. Sono d'accordo. Quindi, o nella pagina profilo o in un'altra pagina dedicata, deve comunque comparire l'elenco delle serie seguite. Potete scegliere dove metterla. Non possiamo dire che sono pubblico o sono privata. Private. Non è scritto che sono sui pubbliche. Privata. Non lo so, aspetta. Non è scritto che sono pubbliche. Non è scritto che sono pubbliche. L'importante è che ci sia una pagina profilo. L'importante è che ci sia da qualche parte l'elenco delle serie seguite nella pagina profilo o da un'altra parte. Che possono essere pubbliche o private. Private è più facile. Private è un po' più facile. Perché potete riciclare la stessa pagina per tutti. Invece pubbliche vuol dire che tutti devono vedere le pagine di tutti. Quindi bisogna mantenerle di più. Però è uguale. È a vostra scelta. Tali pagine possono essere pubbliche oppure private. Oppure private. Ok? E questo è quanto. L'unica cosa che c'è ancora è la nota. Alla consegna, ovviamente l'applicazione web non dovrà essere vuota. Ma dovrà contenere almeno un utente creatore. E almeno un utente ascoltatore. Quindi almeno due utenti, uno per tipo. E alcuni, tre o quattro, podcast di esempio. In modo che uno possa provare a ascoltare qualcosa, possa provare a vedere serie, seguirle, smettere di seguirle, eccetera. E il nome utente e le password di quegli utenti devono essere forniti nel documento. In questo documento di testo delle istruzioni per poter fare il login con quegli utenti. Perché il nome utente lo possiamo trovare dal database, la password sarà codificata in qualche modo, quindi bisogna dirla. Se no bisogna creare un nuovo utente, eccetera. Quindi un set di informazioni utenti che già funzionano, hanno già creato delle cose, hanno già... Così uno può provare anche la cancellazione di un podcast subito senza dover registrarsi e che poi proveremo anche a fare. Ma uno può andare direttamente a provare gli aspetti chiave del podcast. Quindi creazione, modifica, eccetera, perché ci sarà già un creatore che ha creato qualcosa e degli ascoltatori che possono ascoltare qualcosa e non modificare altro, ma lasciare commenti, eccetera. Seguire serie e quant'altro. E poi qui a fianco ci sono un po' di commenti, di chiarimento che, come dicevo, lascio visibili nel caso qualcuno abbia... Quindi non solo le persone che hanno fatto domande, ma anche le altre, se hanno qualche dubbio, possono leggere questi commenti e le risposte. Molti di questi sono nel posto giusto, altri sono stati messi a caso, tipo qua, o tipo sull'anno. Quindi non tanto nel posto giusto. Però ci sono, e sono pertinenti col testo, soprattutto dalla descrizione. Si possono evitare di creare un livello di last login se non esistono endpoints, cioè se non c'è una pagine che chiedono il login, obbligatoriamente almeno di quelle che si fa parlare. Rifai. Se non capita mai il caso in cui l'utente va in una pagina o fa sempre di cosa e si trova a tutto negato, è possibile evitare di creare l'ordine di più? La risposta sarebbe se non c'è neanche una pagina che non richieda l'autorizzazione per vedere quella pagina, sì, però qui ce ne sono. Eh, sì, ma io non ho iniziato a mettere l'ordine di più, però le pagine di creazione serie, di modifica serie, che sono form, giustamente, quelle io come ascoltatore non posso vederle, non dovrei poterle vedere. Però non escono, cioè, io... Se io cambio, scrivo la url e cambio la url, è certo che escono. Sì, volendo sì, infatti quello è quello che devo cercare. Uno va dire, sono tutte poste della l'altra. Sono poste quando viene sottomesso il form, saranno get all'inizio. Sì. La pagina. Tutte quelle che richiedono il login, nel mio caso, sono solamente poste di form, che non appaiono... Sono form, sono solo form, direi. Sì, ok. Giusto? Sì. Quindi, però, la metterò in testa, per sicurezza. Bravo. Non si può andare indietro, ma nel doppiatto, magari... Sì, più che altro non deve vedere la pagina del form, no? Cioè, proprio la pagina del form di modifica serie, non dovresti vederla, cioè non dovresti poterci arrivare. O di crea serie, se sei un ascoltatore, non potresti vedere quella pagina. No, nel mio caso no, però... Nel tuo caso già no, di default? Sì, solamente nel distante in cui ti sloca, mentre sta cercando di fare qualcosa, magari una pagina per far troppo, perché ormai... No, però non dovrebbe sloggarti, mentre si crea qualcosa, cioè... Sì, vabbè, ma tipo che la tieni due giorni accesa. Ma noi non lotteremo due giorni accesa, quindi, no? Sì, vabbè... Ovviamente non sono da gestire, perché noi l'accenderemo, la proveremo quella mezz'ora. Quella mezz'ora deve funzionare. Poi se dopo 35 minuti cresce tutto, sempre, sistematicamente, probabilmente non lo scopriremo, perché non arriveremo a... Magari 35, sì. Se dopo un'ora cresce tutto, non lo scopriremo, perché non saremo mai un'ora collegati col sito aperto. Va bene. Se non capita, se non può capitare, va bene, non gestirlo. Se può capitare, bisogna gestirlo. È meglio gestirlo. Ok? Altre domande? Urbi e Torbi? Ci sono metodi che non possiamo utilizzare, perché non ci sono anche quelle che non le dovrebbero utilizzare, scrivere... Quelle già descritte qui. Cioè, quelle già descritte qui sono la sintesi di quello che abbiamo, a tranne la cosa dello stile. La sintesi, no? Sono le tecnologie che abbiamo utilizzato durante il corso e il fatto che HTML deve contenere la struttura, il CSS deve contenere il CSS e non ci va del CSS dentro HTML. Stessa cosa per il JavaScript. E non bisogna usare, quando possibile, tag HTML in maniera semantica. Quindi, quando ci sono e si possono utilizzare, perché magari Bootstrap lo permette, eccetera. Ha senso? Non usiamo roba deprecata, tipo long click o quante altro. Dichiarazioni in line è una buona pratica non usarli. Modificare il CSS tramite JavaScript, non modificando lo style, ma sulle classi. Agendo sulle classi è meglio, perché così si può aggiungere e eliminare classi. Queste cose qua. Se è necessario, se è necessario ed è giustificabile, nel senso che se io lo vedo e trovo un modo per farlo non tramite stile, se invece l'unico modo per farlo è quello, nel mondo, o quantomeno nel mondo noto, se no sono queste le cose che... Quindi... Poi, una roba leggibile, quindi magari, insomma, andiamo a capo, gli tag HTML, le classi, facciamo un po' di indentazione non a caso, ecco, queste cose qui. Quanto dovreste commentare? Diciamo... Opportuni commenti laddove è necessario. Cioè, non commentiamo, questo è il tag head dell'HTML, grazie. Però se c'è magari una funzione, magari un po' complicata, o un qualcosa... o un qualcosa che vi serve come promemoria durante l'orale, perché il codice lo vedete sul mio computer, non sul vostro. Quindi se magari c'è un qualche suggerimento che per voi può essere, o sul computer qualcun altro, può essere utile a una nota, questa funzione faceva questo perché, o questa cosa l'ho fatta così perché, o questo colore è il ciano chiaro, eccetera, che vi serve come spunto per ricordarvi qualcosa, quelli può postarci. Non è necessario commentare tutto, 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 scrivendo più commenti che codice. Il codice dovrebbe essere leggibile già di suo. Però se c'è qualcosa di particolarmente critico, particolarmente complicato, lungo, non tanto chiaro, o che magari appunto voi avete fatto, ma vi serve anche qualche spunto per ricordarvi, lì un commento ci sta. Ripeto, non commentate, strong mette in grassetto il, grazie, tutte le volte c'è strong mette in grassetto il testo, questo mi sembra un commento inutile. Cioè, in questo caso è un commento inutile. Invece i libri esterni di Bytex, prendete un libro per ridimensionare le immagini, oppure qualcosa per trovare la potenza dei riferimenti, non c'è problema, sono accettabili. L'unica cosa sulle librerie esterne, che c'è anche scritto da qualche parte, o comunque l'ho scritto da qualche parte, e che non deve, qualunque libreria esterna va bene, fatemela trovare, dov'è? Qui si riferisce a JavaScript, ma a valenza necessaria le librerie esterne. Qualunque libreria che non rimpiazzi una funzione, cioè se tu le trovi una libreria che ti gestisce le serie di podcast da sola e fa tutto lei, quella no. Ok? Però se è una libreria che ti aiuta ridimensionare un'immagine non è un problema, perché è una piccola funzionalità all'interno di qualcosa, no? Però se fanno un pezzo del lavoro da solo, poi do un pezzo del voto a chi ha fatto la libreria e non a te. Però se è ridimensionare un'immagine, bootstrap, cose così, invece, va bene. Per l'accessibilità con l'alt e il link con il title. Sono le cose principali che potete... Anche l'audio dovrebbe avere un alt, ma... Anche gli audio dovrebbe avere un testo alternativo. Descrittivo. Invece le descrizioni della pagina di controllo di accessibilità non tira più di accessibilità e... Le remaniamo le cose base. Ok. Quindi... E... Una descrizione semantica completa anche in ottica di accessibilità dell'HTML. Non è necessario andare a vedere il flusso di navigazione attraverso... Testare per ogni pagina il flusso di navigazione. Spesso se usate elementi standard funzionerà la navigazione tra tastiera. Cioè se io... Aspetta, scusami. Se io premo tab qui... Una volta funzionava. Adesso non più. Una volta funzionava. È sito nuovo. Non so se è sito nuovo se... Sì, io volevo provare qui ma magari è solo il browser che non va. Sì, secondo me è il browser che... Che fa casino. Sì. Per esempio qua adesso non si vede però per esempio se premo tab adesso sono sull'imprese quindi questo. e adesso sono sul campus internazionale se premo tab vado non so dove su login poi a un certo punto verrà anche evidenziato ma... Adesso sono sulla guida dello studente servizi didattici quindi se premo invio dovrei andare all'interno del... Quindi questo lo fa se uno usa componenti standard e non fa pasticci lo fa in automatico il browser. Quindi. Il tag button è standard. Il tag button è standard. Sì, sì, dovrebbe... Sì, sì, le cose standard dovrebbero essere... Certo che se voi nel tag... Nel link mettete dentro un button e dentro il button ci mettete qualcos'altro ma quello non è neanche più neanche HTML valido e funziona ma magari non è HTML valido quindi di conseguenza può avere problemi. Però se fate le cose come vanno fatte... C'era qualcun altro che mi ha un'alzata? No. Altre domande? Sì. Sì. No, 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 no. Vanno bene qualunque audio che sia non offensivo decente e diciamo che fareste ascoltare a una cena di famiglia con dei bambini e... Che dura anche 10 secondi. Sì, non è necessario che sia un podcast da un'ora cioè può essere anche un file audio che faccia qualcosa di una decina di secondi che potete registrare anche voi non è un problema. Anche due file audio che sono in tutte le serie in tutti gli episodi di tutti i podcast non è necessario che siano 40 episodi con 40 audio diverso. Anche della musica sì, tanto non la mettiamo cioè non è pubblica rimane tra di noi quindi non preoccupiamoci di copyright eccetera rimane privato e quindi ecco se poi voi la mettete pubblica da qualche parte ovviamente togliete gli audio le cose che non possono stare sul dominio pubblico ma finché l'ho consegnata all'esame sta sul portale quindi poi sta sui nostri computer quindi non è un problema. Sì? Alla consegna hai chiesto un formato particolare direi di no perché mi sembra che la consegna lavorativa lo rinomina in qualche modo tipo la vostra matricola il vostro nome il cognome cioè applica già lei un formato mi sembra se non hanno cambiato se ricordo bene applica già lei un formato comunque vedete se quando lo carichi lo carichi lo chiami abc e questa si carica come abc magari ti conviene cancellarla e ricaricarla con il tuo nome ma almeno nome e cognome e matricola assicurati che ci sono queste tre informazioni ok o almeno nome e cognome deve contenere queste cose il codice no no la cartella venve non va caricata no dovete prendete il vostro progetto lo copiate sul desktop cancellate le cose che non vi servono fate uno zip è la versione più veloce perché il caricamento elaborato fa solo il caricamento è uno zip quindi fate una copia magari provate a eseguire la copia così siete sicuri che funziona anche quella così giusto per una volta che funziona se c'è la cartella venve cancellatela se c'è la cartella pycache cancellatela e caricate il sorgente con eventuali informazioni sulle dipendenze le immagini i file mp3 che sono stati caricati o file audio che sono stati caricati il database e le istruzioni ci vuole il database tanto carichi il database lo script non è necessario perché tanto nessuno andrà a cancellare il database lo carichi il database per quello così partiamo da da uno stato consistente e pieno soprattutto quindi non vogliamo ricominciare da capo sì non guarda nessuno sì se avete già fatto potete anche lasciarlo l'importante è che queste cose ci siano poi se c'è uno script in più una cosa in più che serva a voi di nuovo se è un qualcosa di lecito ecco la cartella venve eviterei di caricarla un po' perché è grossa e un po' perché tanto quella è da cancellare comunque se ognuno perché se tu programmi su Windows la tua cartella venve non funzionerà mai sul mio computer e viceversa quindi quella conviene cancellarla i form quindi anche quello devono essere validati per le informazioni essenziali quindi se tu carichi audio di alcuni tipi beh sicuramente ci sarà un controllo lato front end perché puoi dire accept e puoi mettere sicuramente il tipo che carichi e magari un altro paio di tipi che sono ragionevoli mp3 qualcosa del genere e poi un controllo dell'estensione ha senso farlo anche nel server però solo un controllo dell'estensione stringiamo l'estensione accettata sì lo restringete l'estensione accettata a quella che usate e un'altra o altre due non più di così tanto la maggior parte delle prove sarà comunque sul file audio che voi fornirete quindi alla fine non è che uno va a provare con un file OGG se nessuno fornisce un file OGG no? quindi dobbiamo portare i audio a no? saranno già nel progetto sì quindi non posso ricaricare un audio che hai già caricato? ah punta no non dovete portare dovete portare voi stessi all'esame una volta che avete costruito tutto eh effettivamente ma se quanto riguarda la data va a valutare la data o dipende in realtà potrebbe anche aver senso io lo creo ma magari voglio che venga visualizzato nel futuro però perché non impedirmi di crearlo quello è quella è una scelta di progettazione che uno può chiederti perché la data nel futuro mi permette di farlo e tu mi rispondi perché uno può pubblicarlo e non viene ancora reso disponibile per esempio finché non arrivi in quella data oppure viene reso disponibile ma lo vede solo il creatore perché c'è scritto nel futuro sono scelte che fai tu in generale c'è un principio nella ci sono vari principi nell'ingegnere del software ma c'è un principio che si chiama KISS come bacio K-I-S-S l'avete mai sentito? no? che significa keep it simple e l'altra S varia in origine era stupid quindi keep it simple stupid e poi stupid era poco carino e quindi l'hanno modificato però il senso è mantenetelo semplice quindi non complicatevi la vita quindi se c'è un modo facile di farlo che rispetta questo fatelo in quel modo non state a complicarvi la vita per il gusto di complicarvi la vita ok? quindi anche in questo contesto KISS non tra di voi in questo momento se non volete ma come principio di software ok? siamo a posto con le domande generali allora io adesso stoppo la registrazione e poi questo video lo carico se adesso nel prossimo quarto d'ora venti minuti avete qualche domanda come dicevo più specifica personale qualcosa da far vedere qualche pezzo di codice che non funziona venite pure qui altrimenti potete o stare qui se avete qualcosa da fare qui o andare in un posto più caldo di questo probabilmente a fare altro andare a casa quello che volete ok? mercoledì c'è il laboratorio ma con questa e con mercoledì il corso è finito ok? se avete domande su telegram o via mail come come il solito molto grazie Grazie.